Siamo con Renato Brunetta, allora cosa pensa di attacco di Trump stanotte? Che l'attacco era prevedibile data la gravità dei fatti, fa parte della filosofia americana in generale e di Trump e del trumpismo in particolare. Ho visto che la reazione russa è stata non particolarmente, come dire, forte. Ma io non direi perché, nel senso che non si sa ancora, perché non è stata immediata. Io non l'ho vista particolarmente forte, penso che sia una parentesi questa e che il dialogo debba ricominciare. Il dialogo Trump-Putin oppure Stati Uniti-Federazione russa in funzione antiterrorismo. Io su questo ho fatto una dichiarazione l'altro giorno dicendo al governo italiano di invitare Putin al G7 di Taormina, come fece Berlusconi a pratica di mare nel 2012. Speriamo, solo che adesso non so se Putin vorrà andare a questo, però voi invitate e poi vediamo cosa succede. Io ho chiesto ufficialmente a Gentiloni di invitare Putin a Taormina al G7 e farlo diventare un G8. Quindi Renato, grazie anche per questo. Grazie a voi.